Slitta ancora la pubblicazione del bando per la privatizzazione del centro turistico del Gran Sasso. È stata infatti infruttuosa la riunione di ieri con Invitalia, rappresentata dal dirigente Michele Resta, alla quale il Comune dell'Aquila ha chiesto di predisporre il bando e che sta pianificando gli investimenti. Il Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha ribadito la necessità di portare avanti il piano di privatizzazione e si è valutata una ripianificazione delle scadenze, come sottolinea l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Vincenzo Giuliani. Attorno al tavolo riunito nella sede comunale di Palazzo Fibioni c'erano anche l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, il presidente e il direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso, rispettivamente Tommaso Navarra e Domenico Nicoletti. Per lo sviluppo dell'area sono disponibili 30 milioni di euro stanziati dal Cipe, a cui dovranno aggiungersi i fondi del privato. Due sono le società che hanno risposto all'avviso per la manifestazione di interesse, un grande gruppo turistico alberghiero ed una cordata di imprenditori locali. A questi si aggiunge, secondo Giuliani, l'interesse latente di altri operatori del settore. Rispetto al business plan sono state ampliate alcune attività, aggiunge, sulla base dei fondi già deliberati esiste sempre la volontà di procedere con il rilancio dell'area. Sui tempi necessari all'emissione del bando abbiamo chiesto ad invitargli un'indicazione che osa l'amministratore, ma non è stato preso un impegno di nessun genere. Grazie Grazie